buongiorno a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi un video un po particolare perché non sono da solo per credo ma non mi capita molto spesso di fare interviste ha fatto qualcosa sulla musica ma oggi abbiamo un'intervista molto speciale ma non vi svelo ancora chi sono gli ospiti lo facciamo fra un po perché facciamo questo video facciamo questo filmato perché qualche tempo fa ho realizzato un video che parla di diciamo egittologia che parla principalmente di questo libro giza la caduta del dogma scritto da antonio de flumeri genuca montuschi e andrea tavecchia e questo video mi ha onestamente portato un sacco di visualizzazioni perché per il mio canale più di 100.000 visualizzazioni sono veramente tante ma soprattutto si è scatenato una discussione incredibile un sacco di commenti anche molto interessanti e credo che sia il caso di riprendere quei commenti e magari farci su una piccola discussione perché molti di quei commenti erano anche abbastanza interessanti diciamo che i commenti si dividevano in tre categorie no c'erano eh beh gli insulti naturalmente c'erano molti complimenti devo essere onesto e qualche suggerimento allora tra gli insulti giusto per farvi capire come funziona ve ne cito qualcuno tipo studia prima di parlare eh oppure non so addirittura sono stato attaccato per la sedia evidentemente la sedia non piace però finché mi attaccano sulla sedia mi va bene o dire che comunque sfinca e non vai sull'argomento oppure non so frasi del tipo duecento anni di egittologia che arrivi tu e cambi tutto intanto non arrivo io ma arrivano gli ospiti che vedrete fra un po e poi cosa vuol dire duecento anni di egittologia non possiamo avere un'idea diversa non posso fare delle domande perché di domande si tratta io vi ricordo che una volta si parlava di terra al centro dell'universo il sole che gira attorno poi sono arrivate qualche persona che dopo a centinaia e centinaia di anni di questa teoria hanno cambiato le cose qualcuno l'hanno anche bruciato ma comunque poi le cose non stavano che si dicevano da duecento anni quindi fare domande è sempre corretto la teoria della relatività è la stessa cosa quando è arrivata è stata una rivoluzione la meccanica quantistica quando è arrivata è stata una rivoluzione io credo che fare domande sia sempre lecito però qui sembra che non si possa perché i commenti classici sono se non sei un esperto non puoi parlare non puoi fare domande ancora peggio allora scusate chi è che può fare le domande soltanto gli esperti io mi arrogo il diritto di poter fare le domande che voglio proprio perché voglio imparare cose nuove senza preconcetti perché poi ti dicono che addirittura che si ci sono un sacco di fonti basta andare a cercarle ne citassero una di fonti queste persone perché di fonti non ne sono arrivate oppure non so tentano addirittura con i classiche logiche da debunker no discreditare le fonti e così le persone che sto per ospitare che non sono egittologi di professione ma fanno un altro lavoro non possono parlare perché non fanno questo lavoro oppure frasi tipo le cose che dici sono state smontate loro dicono debancate ma non ti dicono mai dove oppure citano delle fonti c'è la tal tavoletta che dice questo ma la tal tavoletta non ti dicono dov'è e tu non sai dove andare a cercare queste informazioni insomma offese in cui ti danno del complottista oppure ti associano a categorie tipo terra piattista io di terra piatta non ho mai parlato non me ne frega niente ma tutti questi le risposte non le danno beh a me di queste persone più di tanto non è che interessi perché non si può instaurare una discussione con queste persone poi però ci sono i suggerimenti e quelli sono molto interessanti perché sono citate teorie alternative ma non solo persone che correttamente e anche molto educatamente hanno fatto anche molte domande era la cosa che ho voluto fare subito è stata quella di chiamare questi ospiti che ho con me in questo momento che sono appunto antonio de flumeri andrea tavecchia e gianluca montuschi perché chi meglio di loro possono rispondere a queste domande tanto ragazzi benvenuti grazie di essere qui sul mio micro canale sono contentissimo onestamente non pensavo che avreste accettato questa cosa mi fa un veramente tantissimo piacere benvenuti sul mio canale ciao grazie a te ciao grazie un piacere per noi vi ringrazio tantissimo allora diciamo una cosa fatemi dire solo una cosa qualcuno nei commenti aveva anche suggerito di chiamare qui a confrontarsi con voi degli egittologi o dei degli architetti vi dico un architetto addirittura mi aveva mi aveva commentato te lo dico leggo è te lo dico da archeologo parla d'altro che di mente cattiche dicono cazzate sulle sull'archeologia ce ne sono già troppi ai dubbi lui e poi un po di faccine questo è questo è l'andazzo è dei commenti in alcuni casi beh io questa persona l'avevo invitata oggi ho detto guarda devo fare una trasmissione con gli autori del libro se vuoi partecipare che tu è scomparso io so che voi avete avuto esperienze simili con gli egittologi avete cercato il confronto io mi ricordo per esempio una trasmissione con su bio blu non so se volete parlarne raccontarci come è andata quella sì ciao a tutti innanzitutto sì mi riallaccio un attimo quello che dicevi prima poi rispondo a questa domanda c'è un'altra critica che c'è stata mossa che tra sei dimenticata non farlo mai più ed è quello che era già stato detto tutto quindi è già stato detto tutto quindi non possiamo aggiungere nient'altro allora a questa affermazione io rispondo in due modi primo modo la prima parte della risposta è questa è vero che noi trattiamo alcuni del libro alcuni argomenti che trattiamo sono già stati trattati da altri studiosi soprattutto studiosi indipendenti infatti qua abbiamo tutti i libri i loro libri Ancoc, Boval, Pizzuti, qualsiasi chiunque ce l'abbiamo ma quando li citiamo non li citiamo semplicemente per dare un'informazione perché altrimenti sarebbe già nei loro libri noi diamo un informato questo prendiamo questa informazione come base e poi la sviluppiamo perché come abbiamo già detto molte volte si sono limitati a dare un certo ottimazione senza andare nel dettaglio perché semplicemente non gli serviva perché stavano facendo un lavoro verso un altro discorso ad esempio verso l'obiettivo del loro libro ecco qualche volta ripeto abbiamo preso delle informazioni già date da altri però siamo andati a fondo e molte volte più delle volte siamo riusciti a dipanare anche i dubbi che avevano espresso loro e questo quindi da una parte però poi dall'altra parte nel libro ci sono anche molti argomenti nuovi che abbiamo trattato per primi e per primi lo possiamo dire perché avendo praticamente tutti gli altri lo sappiamo e quindi è già stato detto tutto direi che non calza a pennello ma soprattutto non calza sono sicuro di essere nel giusto per questo motivo perché ogni volta io facevo sempre solo una domanda scusa ma tu il libro l'hai letto no allora come fai a dirmi che già stato detto tutto se tu prendi l'indice ovvio che ci sono degli argomenti che sono già stati trattati anche dagli altri ma il come e tra l'altro ripeto ci sono degli argomenti nuovi chi ha letto il libro non si è mai permesso di fare una di muovere una cosa comunque di una affermazione del genere e questo direi che è una cosa abbastanza importante perché bisogna fare una discriminante fra chi ha già letto il libro e chi non l'ha letto perché ovviamente cambia tutto venendo a quello alla domanda che ci hai fatto abbiamo avuto serie difficoltà a relazionarci con diciamo la controparte in questo caso un egittologo bio blu ha cercato non so per svariati mesi una persona che potesse fare una trasmissione con noi e ripeto cioè ripeto lo dico ex novo una trasmissione non vuol dire che noi attacchiamo lui o lui attacca noi assolutamente a noi piace piacerebbe parlare con egittologi comunque con tutta gente del che ha a che fare con l'argomento per fare le domande che per fare a loro le domande che abbiamo espresso nel libro e quindi sentire le risposte però oltre a fare le domande a permetterci di fare le domande ci piacerebbe anche sentire delle risposte alle nostre domande non veder deviare il discorso ogni volta oppure denigrare qualsiasi affermazione che facciamo senza portare un contributo di crescita diciamo della conoscenza faccio l'esempio inizia la trasmissione con bio blu luca parla per primo parla di faraoni e indignato il professor dice non sono faraoni sono re che non cambia niente posso chiamare anche tutto il concetto era su altre cose non so come si chiamassero però già pronti via si è capito l'andazzo seconda frase la prova che le piramidi le hanno fatte gli egizi in quel periodo è che sono lì e quindi sono lì da vedere quindi è così non è possibile costruire una piramide in 20 25 anni perché non abbiamo non abbiamo più quella tecnologia e quella anche perché è una cosa che ci può sembrare strano perché ora abbiamo gru abbiamo aeree abbiamo elicotteri abbiamo anche materiali diversi ma lì dietro la piramide di che opera non ci sono solo pietre c'è una un'ideologia che faceva lavorare diecimila ventimila persone non saprei neanche dire quante persone ci hanno lavorato con un lavoro che veniva gestito in maniera capillare per cui tutti questi lavoravano come un unico uomo e che sia stata costruita al 25 20 25 anni 30 cambiano sempre un po le datazioni dei sovrani è possibile sì certo è possibile perché l'hanno fatto è lì non vedo un'alternativa a questa possibilità cioè noi tu l'hai letto abbiamo fatto il libro in cui ogni virgola ogni frase è dimostrata perché altrimenti non potevamo permetterci di scriverla ci abbiamo messo otto anni di lavoro per riuscire a documentare ogni affermazione che abbiamo fatto e avere di contro una persona che ti dice sono lì da vedere quindi è così e non ci piace dopodiché mi permetto di ricordare anche in quella trasmissione che tra l'altro è disponibile su bio blu un'altra frase che per me di quell'egittologo che tra l'altro era un professore di ogitologia dell'università sì 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 una frase che a me ha colpito moltissimo che era e mi pare che gliel'avessi fatta tu la domanda è vero che non è possibile tagliare il granito con il rame no perché si dice che gli egiziani avessero solo utensili poco più che rame insomma legno o pietra e lui rispose sì è vero non è possibile tagliare il granito con il rame però gli egiziani ci riuscivano a me interessa che il rame non può lavorare il granito ha ragione io la invito ma veramente si diverte anche le offre un pranzo andiamo in cava e parliamo con chi lavora il granito e lei spiega che il rame si può lavorare il granito giusto se ne fanno la stessa reazione che hanno fatto noi che stavamo scappando per paura di prenderle vedrà che io la invito andiamo insieme in cava io le voglio dire una cosa per questa del rame gli egizi sono entrati nell'età del bronzo molto più tardi rispetto alle altre alle altre civiltà quando di cose in granito e non solo in granito ma pietre molto più dure tipo la diorite le avevano già fatte rifatte cioè dire che con il rame non si lavora il granito è una assurdità unica che glielo può dire quelli che lavorano in cava ora perché lavorano con altri strumenti e non e non lei lo sa allora lo sa lei dice rame ma che tipo di rame è stato utilizzato per c'è uno strumento rame che è stato ritrovato ecco allora è stato utilizzato un rame ribattuto cioè che è stato fuso lavorato battuto rifuso rilavorato ribattuto due volte questa doppia fusione che gli egizi che conoscevano benissimo era una tecnica che avevano sviluppato loro e non altre civiltà almeno non si è trovato mai strumenti di questo genere al di fuori dell'egitto riesce a indurire il rame in maniera tale da renderlo più forte del bronzo questa è una è chimica è chimica cambia la composizione chimica e questa cosa mi ha distrutto nel senso che è proprio la dimostrazione del fatto che si parte dalla tesi per portare per per cercare allora perché siccome quella lì è la tesi cioè che l'hanno fatto con il rame e l'hanno fatto gli egiziani allora bisogna che fame taglia il granito anche se oggi non riusciamo più a farlo esatto la tesi non va più dimostrata la tesi è la verità si cambia le cose sotto per per far vedere che vera ma ti dirò di più noi siamo stati molto 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 fessi qualcuno direbbe educato io adesso dico fessi in quella trasmissione perché il presentatore di via blu ci chiedeva no dai andiamo perché noi avremmo dovuto fermarlo ogni volta e ricontinuare a fare la stessa domanda finché non rispondeva e invece ovviamente il presentatore di via blu nelle tempiste voleva fare domande che sarà che avevamo che aveva stabilito e quindi noi educatamente sapevano ogni volta ma ci siamo sentiti dire che addirittura la tecnologia è circolare quindi che circolare vuol dire che torni anche indietro ho fatto l'esempio dei numeri di telefono ma cosa me ne frega di ricordarmi 40 numeri di telefono ciò il telefonino che ce n'ha mille lui non mi serve più mi serve fare fare altra cosa con la mia mente quella cosa lì fa un altro io ho lavorato affinché qualcun altro facesse quella cosa basta dopodiché alla fine per dire qualsiasi cosa citavamo non andava bene al mamun l'ha buttato nelle mille e una notte quindi non vuol dire niente abbiamo citato i gardiner non va bene neanche quelli tra l'altro sono quelli che loro utilizzano nei corsi ovviamente nei corsi utilizzano la parte detta da edwards o da gardiner che va bene qualcosa quello che non va bene ovviamente non funziona e quindi un altro gioco al massacro è quello di denigrare qualsiasi tua fonte però il problema che non mi hai portato niente di tuo tu puoi dirmi qualsiasi cosa che io sono stupido che io non posso dire queste cose qualsiasi cosa però devi confutare quello che dico e devi confutarlo con delle prove quindi è stata diciamo un'esperienza molto negativa molto negativa perché abbiamo scoperto che per poterci far valere dovremmo essere maleducati e questa cosa a me a noi dà molto fastidio dovremmo veramente fermare la trasmissione dopo due minuti e finché non dà una risposta non andare avanti quindi se mai la riferiamo io la vorrò fare così altrimenti dopo due minuti la chiudo ma mi spiace anche parlare così perché sembra di essere arrogante maleducato chissà che cosa no è questo e ripeto poi chiudo l'antonio vuole aggiungere qualcosa su queste cose chiudo dicendo questo che sono due anni che c'è questo libro il primo anno da soli da un anno con uno editori quindi primo anno autoprodotto poi con uno editori e noi in due anni siamo stati attaccati come te in qualsiasi modo ma non c'è stata una critica un attacco su quello che c'è scritto un attacco su alla pagina 59 avete scritto una cosa non esatta non c'è stato quindi su chi siamo ovviamente non c'entriamo niente con l'esitologia va bene però ripeto ancora non deve attaccare la mia persona ma deve attaccare quello che dico se io dico stupidate hai tutta la ragione tra l'altro anche le altre persone allora quelli che attaccano non possono parlare perché se vale per me vale anche per loro non ho capito dove la disparità e un'altra cosa io devo portare le dimostrazioni perfetto ci ho messo 8 anni per portarti le dimostrazioni in tutto il libro adesso io pretenderei sono ancora sul condizionale ma ancora per poco pretendo che quando uno ci attacca a roba del genere lo faccia con delle prove così è pari lo sforzo è pari è pari tetico poi se hai ragione tu sono il primo a dirti che hai ragione perché a me a noi interessa la conoscenza non dire abbiamo ragione non me ne frega niente a me interessa sapere cosa è successo come è andata veramente la cosa adesso c'è Antonio che mi sembra che voglia dire qualcosa sì volevo fare un appunto sul discorso del rame allora quando abbiamo scritto il libro ci sono arrivate molte mail tra cui vari studiosi cioè vari docenti di vari settori per cui dopo la trasmissione siccome mi era rimasto c'era rimasto in mente questo discorso del rame ribattuto come l'aveva denominato il professor tiradritti ho scritto a una persona di questo tipo di questo professore chiedendole se l'aveva aveva mai sentito appunto aveva mai sentito questa questo rame ribattuto tra l'altro io al momento dell'intervista al professore non abbiamo avuto il tempo di dire se poteva darci eventualmente una fonte ecco uno studio al riguardo cioè motivare aveva aveva detto quella cosa e quindi volevamo le prove in modo da poterle leggere ed eventualmente cambiare idea quindi ho scritto questa questa mail mi è stato risposto che assolutamente poi adesso non abbiamo il tempo di farla leggere però con in maniera molto categorica anche il rame ribattuto può avere una durezza che pare una volta e mezza il rame normale ma che comunque non può tagliare il granito quindi questa mi verrebbe da chiedere a questo punto al professore se eventualmente mi può far sapere la sua fonte ecco per cui molte volte ci è capitato di sentire abbiamo assolutamente condizione di questo problema sappiamo che facevano così però poi dopo quando andiamo a cercare le prove succede che non ci sono oppure che non ci vengono mostrate invece con questo questo professore che molto gentilmente ha risposto alla nostra mail ci ha dato proprio una una risposta abbastanza definitiva professore professore sì non voglio di dire chi è perché non ho comunicato e non così per la privacy tutto mi piace dire soltanto ho le mail come prova quindi che in qualunque momento qualunque cosa io dica al riguardo ha effettivamente un dato una fonte ecco almeno questo perché vedete quello che mi fa mi fa un po impressione che la metodologia che state utilizzando è abbastanza scientifica cioè si va a cercare una prova e se quella prova convince va bene se quella prova non convince si chiedono altre spiegazioni eppure una delle maggiori critiche che ho trovato nei commenti è visto che non siete egittologi voi non potete parlare di questa cosa poi però non ve l'ho detto prima una delle cose più divertenti è che ti citano come fonti per esempio Massimo Polidoro che io sono andato a vedere Massimo Polidoro va benissimo non studioso mi va benissimo può dire fare quello che vuole però è laureato in psicologia all'università di Pasdova con una tesi sull'attendibilità dei testimoni oculari di fenomeni insoliti quindi lui è uno psicologo e secondo me può parlare di egittologia ci mancherebbe altro ma allora lo potete fare anche voi lo possiamo fare anche noi perché è una dimostrazione che non devi essere un egittologo per farlo volevo mettere un attimo i punti su lei perché se no qua alla fine andiamo a far dire che soltanto quelli che si occupano di quella branca possono parlare di certe cose e noi che ci vogliamo informare vogliamo fare le domande non possiamo farlo perché ricordiamoci noi stiamo facendo domande in questo momento non stiamo dando tesi però vorrei tornare un attimo alle vostre tutte le domande che sono arrivate ho cercato di raggrupparle un attimo per esempio ci sono delle molte persone che dicono di andare a informarsi da altre parti sia sul fonti di egittologia tra virgolette accademica sia fonti di tipo diverso per esempio molti moltissimi vi giuro sarà il 70% di queste tipologie di commenti chiedono di andare a vedere il professor malanga avete letto qualche cosa perché io sono andato poi a documentarmi su malanga e a me non vi dico perché ma non mi convince però voi l'avete vista questa cosa di malanga questa nuova teoria che sta facendo anche delle conferenze in giro allora io volevo fare prima di tutto una puntualizzazione sul discorso che hai fatto prima nel senso che è vero noi non ci occupiamo di egittologia ma infatti e mi collego poi anche alla seconda domanda non abbiamo nessuna pretesa di dire come siano andate effettivamente le cose che questo qua secondo me è un punto fondamentale della questione cioè noi non ci arroghiamo il diritto di sapere come abbiano costruito chi le abbia costruito quando abbiano costruito le piramidi ok perché va al di là probabilmente delle nostre competenze ok abbiamo al di là che visto che hai citato Polidoro che è laureato in psicologia hai detto io sono in economia Andrea è laureato in scienza delle informazioni e Antonio ha una laurea in design quindi va bene siamo paritetici ok come formazione ma al di là di questo noi rispondiamo a delle affermazioni che vengono fatte o meglio facciamo delle domande andiamo a vedere se quello che ci viene detto ufficialmente corrisponde effettivamente al vero ma non secondo la nostra idea o secondo delle nostre pensieri ma se corrisponde effettivamente ai documenti storici in nostro possesso nostro nel senso non di Gianluca Andrea Antonio ma dell'umanità ok da dove nascono queste convinzioni e queste teorie siamo andati semplicemente ad analizzare quelli che vengono asserite come dogmi come lo chiamiamo noi no? a tutti gli effetti da dove derivano siamo andati a studiare le fonti originali da dove arrivano o comunque da dove arriverebbero questo tipo di informazioni e siamo andati a vedere se tutto fila ok quindi non stiamo dicendo stiamo dicendo come hanno potuto costruire le piramidi stiamo dicendo che come ci viene detto per le nostre informazioni per le informazioni a disposizione diciamo dell'uomo d'oggi ok non possono essere state costruite in quella maniera punto non stiamo dicendo non avete capito niente tutti abbiamo capito tutto noi le hanno costruite così questo è una premessa fondamentale da fare e qui arrivo al secondo punto chiaramente anche noi abbiamo letto Malanga che ha degli spunti secondo me assolutamente interessante e geniali ma non è questo l'oggetto del contendere io possiamo essere anche d'accordo in toto in parte o per niente non è l'oggetto del contendere cioè noi in questo libro non affrontiamo le teorie chiamiamole tra virgolette alternative noi andiamo ad analizzare quello che ci viene detto tutti i giorni leggendo un libro di storia leggendo un libro sugli egizi o guardando un documentario punto non andiamo al di là di questo no? quindi noi abbiamo preso quello che ci viene detto ci vengono dette tante cose che sono tombe come sono state costruite le rampe e blibli blo blo e i marchi di cava e chi le ha costruite come le ha costruite eccetera eccetera e andiamo ad analizzare quello che ci viene detto quello che è effettivamente il dogma sulle piramidi dell'antico regno punto non è nostro interesse nel nostro lavoro nella nostra ricerca andare ad analizzare come possono essere state costruite le piramidi in questo caso ripeto non solo quelle di ghizza ma quelle dell'antico regno come o cosa potessero servire esula dalla nostra ricerca no? poi anche noi possiamo avere le nostre idee ma non è questo l'oggetto del contendere sì è chiarissimo è chiarissima la posizione e io la condivido in toto cioè è soltanto un non mi tornano le cose faccio delle domande per capire meglio è chiaro che è così assolutamente Alberto scusa ti interrompo ma soprattutto per le funzioni della piramide per quanto riguarda le metodologie costruttive ci interessa sicuramente sapere tante altre teorie che ci sono adesso ad esempio quella di Jean-Pierre Rudin piuttosto che Davidovitz per i geopolimeri e tutte quelle altre cose ci interessa perché comunque fa parte di questo del nostro studio quotidiano che continua ad andare avanti per quanto riguarda la funzione della piramide come viene evidenziato nel libro di Malanga ci lascia abbastanza come dire differenti nel senso che sì ok potrebbe essere però poi dopo se la guardiamo con i nostri occhi magari alcune alcune prove mancano ecco tutto lì ecco sì perché una cosa interessante che vorrei sottolineare anch'io è che ho ricevuto molti commenti su teorie alternative però da un certo punto di vista è esattamente lo stesso delle teorie ufficiali cioè se proponi una teoria alternativa ci deve essere un minimo di prova cioè devi portare anche tu qualche prova perché le cose sono fatte così cioè se Malanga mi dice per citare lui perché stiamo parlando di lui che la piramide è un generatore di energia non lo so invento mi devi dire come hai fatto a produrre l'energia con la piramide altrimenti è una teoria che per me vale esattamente come tutte le altre una teoria portata da prove affascinante interessante per carità ma rimane sempre una teoria vi volevo fare un'altra domanda perché anche su questo molti hanno polemizzato tra virgolette dicendo quando voi dite nel vostro libro che le piramidi non sono tombe mi dispiace di farvi questa domanda ne abbiamo parlato anche perché devo dire la verità noi ci siamo conosciuti anche su Alternativi abbiamo già fatto qualche chiacchierata e questa domanda ve l'ho dovuta fare anche in quelle interviste ma devo ripetervela anche qui cioè quelle piramidi che non sono tombe perché non sono stati trovati cadaveri all'interno delle tombe molte persone dicono no non è vero io ho sentito i documentari i cadaveri sono stati trovati le salme ci sono le abbiamo trovate per carità a molti ho chiesto dove non mi hanno saputo rispondere qualcuno ha risposto alla piramide di Micerino e un'altra che non mi ricordo ma lo sapete sicuramente voi qual è quell'altra dove sono state trovate dei resti umani vi chiederei la vogliamo chiarire una volta per tutte questa cosa perché altrimenti non ne usciamo più ok allora le uniche diciamo gli unici corpi non so neanche chiamarli corpi perché nella piramide di Micerino è stata trovata una sepoltura che è stata studiata col metodo del radiocarbonio e quindi apparteneva a un completamente un'altra epoca tipo il 600 avanti Cristo quindi nulla a che fare con la terza quarta dinastia eh l'altro reperto che di cui magari si parla è all'interno della piramide di Zoser è stato trovato un piede un piede mummificato all'interno di una delle tante sale che sono all'interno della piramide l'altro reperto è se si riferisce a Belzoni nel 1818 che ha trovato all'interno del sarcofago della piramide di Kefren e le ossa di Toro mi sembra eh insieme a polvere detriti per cui non non c'entra nulla con il discorso dei faraoni come sepoltura quindi tutto quello che a noi abbiamo che abbiamo di fronte è questo dalla terza alla quarta dinastia non è stato trovato nient'altro il viene da chiedersi poi fare un minimo di ragionamenti su questo su questi ritrovamenti nel senso che se le piramide venivano usate anche da in periodi successivi viene da chiedersi che è quasi più probabile trovare dei reperti postumi piuttosto che dei reperti originali ad esempio però comunque queste sono questa è la situazione poi chiunque voglio smentire mi prova a dare una mi dà delle indicazioni, delle fonti su cui poter discutere ecco tra l'altro se non ricordo male voi avevate riportato, non mi ricordo se c'è sul libro, forse sì che anche in piramidi o comunque in sarcofaghi che sono stati aperti e ancora sigillati anche in quel caso se non sbaglio non è stato trovato era nella piramide di Sechemcat il successore di Zoser è stato trovato il sarcofago ed era completamente sigillato per cui quando nel 1954 mi sembra è stato aperto quindi in epoca nostra finalmente potevamo vedere una sepoltura originaria è stato trovato vuoto quindi questo è un'ulteriore diciamo prova che qualcosa non quadra almeno manteniamoci molto diplomatici se qualcuno poi ha delle altre fonti benvengano anzi anzi chissà vorrei tornare un attimo con voi al discorso del taglio delle pietre perché alcune persone hanno suggerito la possibilità per esempio che quelle pietre potessero essere tagliate per esempio con la diorite non so se avete mai affrontato questo tema io della diorite non so nulla per cui ve la giro esattamente come l'hanno fatta o qualcuno parla di rame temperato con l'arsenico per esempio avete avuto qualche notizia di questo tipo? per il rame temperato con l'arsenico rimando già alla risposta che ho detto prima è rame temperato, ricotto, ribattuto io mi mantengo con quello che è stato detto prima perché ho parlato con uno studioso che è sul lavoro per cui oltre a quelli che abbiamo incontrato nella cava di marmo che poi magari ne parleremo dopo che ci hanno riso in faccia quando abbiamo parlato di rame che potevesse tagliare il granito mi sono perso cosa mi chiede ah la diorite, sì esattamente per quanto riguarda la diorite abbiamo sì è un elemento che poteva essere usato durante la lavorazione del granito è un elemento, una pietra molto dura per cui potrebbe essere usata per lavorare il granito perché veniva usata con quello che hanno trovato allora manteniamoci sempre in quello che è detto dall'egitologia quindi che parlano di questi riperti sono state trovate delle sfere di diorite come ad esempio quella che è stata trovata nelle vestigia da Dixon nelle vestigia di Dixon è stata trovata in questa palla, questa pietra e si dice che con queste pietre potessero in qualche modo tagliare lavorare il granito la cosa che mi fa un attimo specie è che noi abbiamo una bellissima statua del faraone Kefren che è completamente fatta con indiorite e magari poi dopo faremo vedere un'immagine mi chiedo come fare a lavorare una statua del genere così precisa con questi lineamenti così armoniosi con una sfera di diorite ecco sfregando o lavorando con la diorite contro il granito aggiungo anche un ulteriore elemento che è di prioritaria importanza il fattore tempo supponiamo che con la diorite possiamo lavorare il granito sì lo possiamo lavorare in alcuni contesti mettiamo così ho dei dubbi che si possa lavorare per fare tutto quello che è stato fatto ma supponiamo che si possa fare tutto quello che è stato fatto con la diorite abbiamo preso in te cosa vuol dire lavorare il granito con la diorite quanto tempo ci vuole ripeto ammesso che possa essere successo così perché dobbiamo sempre ricordare che nei 20-25 anni del regno di Kefren è stata costruita grande ora provate a prendere la diorite o a lavorare il granito e poi ne riparliamo ma anche le lastre più piccole lasciamo stare quelle più grandi poi quelle più grandi servono per altre indicazioni per altri ragionamenti ma il fattore tempo non va assolutamente dimenticato è insieme al fattore fattibilità quindi strumenti in rame, in pietra, in legno l'elemento principale sono i due fattori principali dai quali partire per stabilire se una teoria è valida e ribadisco la diorite ammesso e non concesso che abbia potuto permettere di fare questo tipo di lavorazione non poteva permettere di farlo in queste tempistiche le tempistiche non potrebbero essere dei 20 anni non potrebbero essere rispettate nemmeno con la tecnologia adesso del terzo millennio dopo Cristo oggi noi non potremmo rispettare queste tempistiche anche solo di produzione delle pietre figurarsi la lavorazione lo spostamento e tutto il resto quindi oltre a quello che ha detto Antonio c'è anche questo questo aspetto molto importante da prendere in considerazione sempre assolutamente sì sono completamente d'accordo e su questo vorrei però ci dicono sempre che bisogna portare le prove delle cose secondo una prova per dimostrare la teoria diciamo queste teorie ufficiali sarebbero quelle di non dico costruire la piramide di Cheope un'altra volta ma magari poter tentare di utilizzare questi strumenti anche oggi vedere se la cosa è replicabile io so che voi avete approfondito abbastanza anche fuori dal libro il discorso del progetto Nova che in effetti era proprio un esperimento fatto per cercare di replicare queste tecniche costruttive ce ne volete parlare un attimo perché è abbastanza interessante cioè lì hanno provato ad utilizzare quei sistemi per vedere se quei sistemi funzionavano giustamente come come dicevi tu hanno provato perché sai in particolare l'Ener che è un famoso ma egittologo ha provato a costruire una una mini piramide nove per nove ma non solo hanno provato anche a spostare dei massi mi sembra del peso di circa venti tonnellate con risultati assolutamente disastrosi cioè lo spostamento secondo trascinamento sulla sabbia bagnata su slitte come ci viene detto che ci viene assicurato dall'egitologia che come abbiano fatto in passato gli antichi egizi per spostare questo masso di pochi metri in una giornata intera di lavoro con centinaia di operai ha portato dei risultati disastrosi nel senso che hanno dovuto abbandonare il lavoro più volte le slitte si rompevano le corde fatte di canapa si rompevano insomma hanno spostato veramente di pochi metri quanti metri? sei metri in una giornata di lavoro in piano un blocco da venti tonnellate ok rendiamoci conto che nella piramide ci sono blocchi fino a 70 tonnellate che non solo devono andare in piano diciamo come ci viene detto dalle rive del Nilo fino a portarle su ai piedi della piramide di Cheope ma addirittura portarli con delle rampe che salgono avvolgenti la piramide che salgono fino a 43 metri di altezza e lì essere posizionati in maniera perfetta millimetrica nella struttura qui hanno fatto un esperimento dove hanno spostato un masso in piano di 6 metri in un giorno ok e scusami se non ricordo male nel sito del progetto Nova ad un certo punto però potrei sbagliarmi hanno anche ammesso che a un certo punto l'ho dovuto usare mezzi moderni tipo camion per lo spostamento questo hanno dovuto usare dei mezzi moderni quando hanno provato a costruire questa mini piramide 9x9 che hanno dovuto hanno dovuto costruire e poi però hanno dovuto utilizzare i mezzi moderni sollevatori tra apani eccetera eccetera ci viene detto per motivi di tempo e hanno fatto questo giochino che attenzione è una roba per noi allucinante che siccome abbiamo utilizzato dei metodi moderni e che all'epoca gli egizi non avevano allora basta aumentare il numero degli operai necessari e torna tutto cioè vi leggo un tratto un pezzettino che se 12 uomini a piedi nudi potevano cavare 186 pietre in 20 giorni facciamo la matematica semplice e vediamo proprio in un calcolo semplicistico molto crudo quanti uomini sarebbero necessari per consegnare 340 pietre al giorno quelle che dovrebbero essere consegnate alla piramide di Kufu per costruirla in 20 anni e viene fuori tra 400-500 uomini ora ero infastidito dagli strumenti di ferro che io ho utilizzato ci dice l'Ener specialmente l'argano di ferro che tirava la pietra nelle pareti della cava quindi ho detto mettiamo una squadra aggiuntiva di 20 uomini in modo che 12 uomini diventino 32 questo è il ragionamento cioè siccome io ho utilizzato dei mezzi moderni e ho ipotizzato che gli uomini a piedi nudi no fra tutta la fava e la rava gli uomini a piedi nudi del 2500 avanti Cristo 12 uomini bastavano per avere 186 pietre però siccome io ho usato non sono riuscito e siccome ho usato dei mezzi meccanici anziché 12 uomini ne metto 32 come se aumentare la forza lavoro mi cambiasse la problematica qui non è un problema di numero di uomini di forza lavoro qui è un problema che ho usato delle tecnologie moderne perché a mani nude non riescivo a farlo perché a mani nude ho spostato di 6 metri in una giornata ma non solo se il rame non buca e non lavora il granito anche se metto 2000 persone a lavorare il granito col rame il rame continua a non bucare e a non lavorare il granito ce ne posso mettere anche 10.000 di persone ma non cambia le cose il problema è il rame non solo le persone su questo infatti ci sono molti commenti che secondo me non sono del tutto sbagliati sempre al video che dicevano sì perché guardate che voi avete descritto molto bene le differenze costruttive e anche la differenza nei volumi costruttivi della quarta dinastia rispetto alla precedente e alle successive e la spiegazione che molti danno è beh sì perché nella quarta dinastia avevano un interesse formidabile in questo tipo di costruzioni ci hanno messo un sacco di risorse poi questo interesse è scemato e di conseguenza non si sono più fatte quelle piramidi cioè ritorna no è un problema di risorse se noi ci mettiamo 50.000 uomini a lavorare allora la cosa è fattibile a un certo punto non ci avevano più soldi ne hanno messi meno e la cosa non è più stata fattibile ma non è questo l'argomento allora esatto questa obiezione secondo me va divisa in due parti la prima parte è la seconda nel senso che innanzitutto mi farebbe piacere sapere come fanno a dire che è scomparso l'interesse però mettiamo che è scomparso l'interesse ma allora faccio una domanda se è scomparso l'interesse come mai hanno continuato a costruirle perché hanno continuato a costruirle hanno continuato a costruirle cercando di imitare quelle che c'erano prima non ci sono riusciti quindi è scomparso l'interesse e poi invece hanno continuato a costruirle per quanto riguarda invece il discorso della ci mettevano più risorse nella quarta dinastia e cose di questo tipo ammesso che sia così che ci mettevano più risorse lì e non dopo ma ripeto qualcuno me lo dovrebbe anche dimostrare perché rifaccio quello che dicevo inizialmente io devo sempre anche in questo momento stiamo dimostrando comunque portando sul discorso logico le nostre affermazioni mi piacerebbe che anche altri dimostrassero comunque supponiamo che avessero davvero più risorse torno a quello dicevo prima non vuol dire riuscire a fare le cose perché se ho centomila uomini in più ma la strumentazione rimane sempre quella povera che avevo prima non riesco comunque a farlo ripeto basta un solo esempio il rame con una persona o con centomila persone non lavora il granito punto non è questione di risorse la risorsa è la strumentazione non la capacità lavoro e la strumentazione era quella ma era quella a detta dell'egitologia di rifare al cappello che ha fatto Luca sul primo intervento mio di Antonio lo dice l'egitologia quindi lo dice l'egitologia noi con quello che ci viene detto dell'egitologia con le strumentazioni che c'erano abbiamo verificato se è possibile se fosse possibile sia in termini di fattibilità che in termini di tempistica e come diceva Antonio quando siamo andati a Mergozzo a parlare con chi è tutta la vita che lavora il granito abbiamo rischiato le botte ma nel vero senso della parola poi vabbè in modo amichevole ci mancherebbe ma le abbiamo rischiate davvero perché anche l'ho detto anche in un'intervista con Bio Blue al professore gli ho detto guarda andiamo là ti pago anche il pranzo ti porto io ma tu dici quello che stai dicendo adesso che con il ramo è ribattuto riesci a lavorare il granito andiamo da quel signore là quello che aveva le dita larghe così cioè tre volte le mie ogni dita e ce le aveva ancora tutte tra l'altro e che ti guardava e ti diceva tre parole non andava neanche avanti perché ti diceva no non è possibile lui aveva già finito e poi ti spiegava tutto il resto quindi portatemi queste prove come diceva Antonio voi portatemi queste prove io cambio idea ma devo vederle perché io adesso le prove sono andato da chi è sul campo o dal Politecnico per il discorso di prima relativo al rame è in una cava relativo alla lavorazione di queste pietre io sono andato da chi ci lavora non da chi mi dice qualcosa che tra l'altro non me lo prova nemmeno perché sulla carta lo so già perché la digitologia mi ha detto che sono state fatte così e mi ha detto anche come hai detto giustamente prima sì è vero che non si può però sono state fatte l'assurdo dell'assurdo tra l'altro vi dirò che alcune persone che lavorano nel campo del marmo hanno commentato il video dandovi assolutamente ragione cioè confermando assolutamente quello che avete detto voi cioè è evidente insomma che è così ma poi c'è una cosa che io non capisco cioè dovrebbero anche mettersi d'accordo per esempio ti dicono da una parte che devi aumentare le risorse e quindi devi pensare di avere non so i buoi che tirano le pietre piuttosto che tantissime persone che si mettono a tirare a spingere quelle pietre d'altro canto poi ti dicono attenzione però che su quelle rampe fatte nel modo in cui erano fatte non ci poteva stare più di tanta gente per cui mettetevi d'accordo o ci mettiamo 5.000 persone a tirare le pietre tutte insieme per rientrare nelle tempistiche oppure mi dite che non si può fare perché crolla la pedana crolla la rampa che li portava su anche lì non è molto chiara la cosa secondo me guarda a proposito delle rampe di cui stai parlando tu c'è uno studio bello fatto dal Politecnico che secondo secondo noi conferma pur non volendo conferma quello che diciamo cioè questo studio parla di queste rampe costruite come vengono dette dall'egitologia e ci dicono che cosa succede succede che erano assolutamente era possibile assolutamente costruire le piramidi ehm così come ci viene detto dall'egitologia con le rampe avvolgenti lungo no lungo la massicciata ehm perché hanno dimostrato questi ingegneri che queste rampe reggevano cioè contrariamente quello che si può pensare reggevano il peso delle pietre che non andavano dico in parole in parole povere non andavano a distribuire il peso sulla parte esterna che avrebbe fatto crollare questa rampa ma sulla parte più attaccata alla massicciata quindi sembrerebbe tutto risolto peccato che in questo studio ci dicono che potevano portare su pietre fino a dieci tonnellate dopo le dieci tonnellate la piramide cominciava scusate la rampa cominciava a flettere e quindi oltre le venti tonnellate erano assolutamente inagibili loro partono dal concetto che siccome il peso medio di una pietra della piramide è circa una tonnellata e mezzo questo sembra dimostrare ma noi dobbiamo se o due e mezzo noi quello che dobbiamo sempre considerare è che all'interno della piramide a 43 metri ci sono dei monoliti da 70 tonnellate ogni teoria ogni teoria ci deve portare a dimostrare come abbiano potuto portare a livello e posizionare in maniera millimetrica blocchi di granito di 70 tonnellate lo studio del della degli ingegneri del politecnico ci confermano come noi andiamo dicendo che con la rampa volgenti non riesci a costruire la piramide punto questo è questo è estremamente chiaro estremamente chiaro e su questo però devo farvi una domanda perché qui ammetto la mia ignoranza è una cosa che non ho capito cioè quando voi date il numero delle pietre che compongono la piramide date un numero 2 milioni se non mi ricordo quanto 2 milioni e 600 mila esatto 2 milioni e 300 mila e 115 mila il rivestimento esterno il rivestimento perfetto mi si dice che nelle piramidi invece la maggior parte delle pietre non erano pietre ma la parte interna era diciamo dei mattoni cotti che venivano utilizzati no perché questa è una cosa che è stata commentata molte volte invece voi stai dicendo no sono tutte pietre di quel tipo là dal peso da una tonnellata in su allora quello che noi abbiamo con gli studi non nostri ripeto nostri ha fatto i petri quindi uno dei padri dell'egitologia ha studiato corso per corso corso per corso l'altezza di ogni corso il volume di ogni corso e le misure di ogni singola pietra di ogni corso e sono blocchi di calcare che vanno dai metro metro e venti metro e quaranta eccetera eccetera ok 80 centimetri 90 centimetri ma sono blocchi non di mattoni i mattoni sono stati venivano sono stati scusate eh utilizzati peraltro non sulla piana di ghizza non sulla piana di ghizza tant'è che anche i corridoi interni della piramide ci mostrano blocchi di granito in pochi casi e nella stragrande maggioranza di blocchi di calcare poi ci sono dei blocchi ve lo dico così giusto pur parler per informazione ci sono dei blocchi misteriosi in quello che viene chiamato eh il condotto ascendente diciamo il condotto che porta prima della grande galleria dove uno studio di Maragioio negli anni sessanta settanta eh ci ci fa vedere ci fa vedere che ci sono dei blocchi monolitici di calcare scavati quindi la galleria è scavata dentro a dei blocchi monolitici di calcare quindi la galleria non è formata da quattro blocchi diciamo uno laterale uno superiore uno un altro laterale uno inferiore ma è un unico blocco una O all'interno dei quali viene scavata la galleria per dire le opere che hanno fatto ci sono dei mattoni solo dei mattoni solo all'interno della nicchia del condotto discendente nel condotto discendente c'è una nicchia e lì pare esserci una presenza di piccoli mattoncini basta tutto il resto sono blocchi è chiaro è chiarissimo è chiarissimo una cosa volevo ancora far notare che ci sono delle persone che invece commentano dicendo beh insomma non dovremmo stupirci in fondo anche i romani facevano costruzioni incredibili ecco forse è meglio che sottolineiamo un attimo la differenza tra le costruzioni tipo il Colosseo e una qualunque delle piramidi della Piana di Giza cioè le tecnologie sono le stesse allora io poi dopo magari Andrea poi scende un pochino più nel dettaglio io però vorrei fare questa considerazione cioè perché poi quando si parla di periodi antichi sembra che siano uno vicino all'altro esatto il periodo che intercorre tra la presunta costruzione delle grandi piramidi quindi quarta dinastia duemila e cinquecento avanti Cristo e l'impero romano nasce nel seicento avanti Cristo quindi diciamo duemila duemila e passa anni dopo arriva Roma il tempo che intercorre tra la piramide la grande piramide la Piana di Giza e il Colosseo è il tempo che intercorre tra il Colosseo e noi non so se riesco a farmi capire cioè non stiamo parlando dei greci e dei romani che sono lì a distanza di duecento trecento anni o anche coedi stiamo parlando di epoche storiche distanti più di duemila anni è lo stesso periodo storico che intercorre tra noi e Gesù Cristo in duemila e passa anni il mondo cambia le tecnologie cambiano i materiali che vengono scoperti cambiano l'ingegneria cambia cambia tutto quindi non è che siccome i romani sono indietro allora li assimiliamo li assimiliamo alla quarta dinastia egizia un paio di ciuffoli passano duemila anni esattamente come tra Roma e noi passano duemila anni tra Roma che andava che hanno fatto il Colosseo bravi e noi noi andiamo su Marte cioè questa è il periodo storico di differenza capisci? perdonami se noi oggi volessimo costruire il Colosseo lo potremmo fare certo ma non siamo in grado di costruire la piramide di Giza fondamentalmente bravissimo esatto ma ti spiego anche perché noi saremmo in grado perché basta vedere e fare dei confronti ad esempio l'altezza è un terzo si parla di 57 metri per quanto riguarda il Colosseo il lato più lungo è 188 metri contro i 230 parliamo del peso 0,25 tonnellate del Colosseo 0,25 scusa milioni di tonnellate del Colosseo contro 7 milioni di tonnellate della grande piramide tra l'altro i romani non erano fessi l'abbiamo visto quello che hanno fatto loro si guardavano bene dal portare in alto i massi grossi come invece è stato fatto nella grande piramide non che chi ha costruito la grande piramide fosse fesso perché molto probabilmente servivano lì però per le opere che hanno fatto i romani non era necessario quindi hanno tenuto in basso le pietre con volume maggiore anche il volume è incredibile parliamo di 2,3 milioni di metri cubi contro 0,1 milioni di metri cubi fondamentalmente stiamo confrontando stiamo confrontando un'opera con la sua custodia cioè la piramide è la custodia no molto più una custodia molto buona una custodia molto fondante ma ci sono dei ragionamenti belli da fare tanto vabbè il tempo ci hanno messo dei 5 agli 8 anni ci hanno messo dei 5 agli 8 anni contro i 20 anni della grande piramide avrebbero loro quindi con la tecnologia dei romani avrebbero impiegato 200 anni perché dico questo? perché vediamo i rapporti allora l'altezza prendiamo i pesi i pesi il rapporto è 1 a 1 a 2 il volume 1 a 23 e se prendiamo tutte queste cose qua diciamo che il rapporto di tutte le grandezze diciamo è intorno 1 a 25 qualcosa del genere e e quindi si vede che non non esiste cioè non esiste proprio un un parallelismo fra queste due costruzioni e in più mettiamoci quello che ha detto Luca perché Luca giustamente ha detto che erano sì antichi rispetto a noi ma comunque erano molto più avanti rispetto alla terza la quarta dinastia ma è sempre un tuttuno comunque loro avevano le strumentazioni per poter fare cose infatti le hanno fatte e tra l'altro queste sono documentate perché anche un'altra cosa che non dobbiamo dimenticarci è che il lavoro fatto dai romani è documentato ne siamo certi al 100% perché ci sono scritti dappertutto tra l'altro ci sono anche i progetti ci sono anche dei resoconti per quanto riguarda le lavorazioni i costi e qualsiasi cosa delle piramidi non c'è niente non c'è un progetto non c'è niente e nessuno tra l'altro l'ha vista perché era un'epoca talmente lontana che non abbiamo dati nozioni del tempo di quello che è stato fatto dai romani abbiamo tutto e sappiamo tutto quindi è una cosa certa e i romani per fare il colosseo ripeto abbiamo visto questi rapporti con quelle tempistiche con quelle strumentazioni che avevano se nelle stesse tempistiche strumentazioni avessero dovuto costruire la grande piramide ci avrebbero messo 200 adesso non mi ricordo più il tempo comunque almeno 1 a 10 come grandezza di confronto però devo dirvi che se c'è una cosa su cui vi trovo d'accordo con alcuni commenti del video sono il fatto che è molto facile trovare qualcuno che parla della piana di Giza ed è corretto ma in effetti il mondo è pieno di opere misteriose di cui non sappiamo assolutamente nulla quindi non è una problematica che abbiamo soltanto lì in Egitto ma ci sono opere incredibili e ingiustificabili dappertutto viene in mente Gobekli Tepe ma non solo cioè ce ne sono veramente tante che forse sarebbe il caso di indagare con mente aperta anche in questo caso è stata un'intenzione proprio di concentrarci soltanto sull'Egitto che dire di tutte le altre piramidi che ci sono in giro per il mondo e di tutte le grandi costruzioni le costruzioni megalitiche e quelle che comunque dimostrano che c'era qualche conoscenza che adesso ci sfugge assolutamente siamo d'accordo nel senso basta guardare in giro per il mondo e ci sono ecco su questo non c'è niente da dire assolutamente è stata soltanto una nostra scelta quella di concentrarci sull'Egitto certo ragazzi stiamo andando verso la fine insomma un'oretta che stiamo chiacchierando io direi di avviarci verso la fine allora scusa ti interrompo ma vai come fossi a casa tua ce l'ho qui dal primo minuto a quel signore che ha detto tu hai detto che molti si sono rifatti a Polidoro sì allora oggi stavo mettendo posto il computer e mi è saltato fuori un file che avevamo salvato posso dire che Polidoro è quella persona che ha asserito che l'erosione verticale della spinge è dovuta mi metto a ridere perché vorrei direla seriamente è dovuta alla rugiada che è un fenomeno che ancora adesso c'è e quindi la rugiada ha permesso l'erosione verticale della spinge ognuno può trarre le proprie conclusioni ovviamente io le ho tratte noi le abbiamo tratte e non sono molto positive in merito a questa osservazione vabbè Andrea secondo me la situazione qual è la spinge la spinge ha erosione orizzontale da vento da sabbia e erosione verticale da acqua l'abbiamo già spiegata nelle interviste che abbiamo fatto nel record perfetto e lì non puoi negarla quindi uno non puoi negarla questa volta non puoi negarla perché è proprio lì quindi c'è qualcuno l'ha detto quindi l'ha studiata quindi per forza devi prendere in mano l'argomento perché abbiamo visto che molte volte basta dimenticarsi dell'argomento non prendere in considerazione non rispondere che è tutto a posto questa volta sei costretto a farlo e cosa ti inventi ti inventi che è colpa della rugiada andiamo a vederci quale tipo di erosione c'è nel ed è colpa della rugiada allora oltre a dire che è una insensatezza totale faccio questa semplicissima domanda come mai la rugiada non in Egitto nello stesso periodo ma nella Piana di Giza come mai la rugiada ha intaccato verticalmente solamente la spinge e tutto quello che c'è intorno o no qualcuno mi può rispondere per favore ecco Polidoro è questa persona quindi quando qualcuno si rifà Polidoro lo analizzi bene e soprattutto chieda le dimostrazioni di quello che dice come le chiede a noi le chiede anche lui tutto qua Andrea sono perfettamente d'accordo anche perché appunto come a voi viene chiesto giustificare la singola virgola del libro allora per me Polidoro può dire ovviamente tutto quello che vuole ma magari visto che ce lo dicono sempre anche a noi o a voi portasse un geologo che dica che quella teoria lì è accettabile mentre fino adesso mi pare di aver capito che i geologi propendono per un'altra teoria che è la retrodattazione delle piramidi o meglio di quelle strutture lì perché soltanto retrodattandola ci potrebbe essere una spiegazione a quella quantità di acqua che serve per fare proprio quel tipo di erosione lì quell'argomento è solo sulla Sfinge però poi quella Sfinge è correlata agli altri per un altro tipo di retrodattazione la retrodattazione geologica chiamiamola così è prettamente sulla Sfinge sì ragazzi vi dicevo se va bene io chiuderei qui dopo un'oretta di chiacchierata però devo fare due cose per forza perché ricordatevi il bonifico per favore perché visto che mi hanno accusato di farvi le marchette e di farvi vendere i libri ricordatevi poi vorrei chiarirla questa cosa perché mi ha fatto molto ridere addirittura il libro questo libro io me lo sono pure comprato scrivendogli a casa ma figuratevi se questi tre ragazzi qua hanno bisogno del mio canale da 3000 iscritti per poter fare le marchette ma fatemi il favore no l'unica cosa la cosa è diversa la cosa è diversa come ti ho detto prima stiamo ancora aspettando la boccia per averci fatto superare le 100.000 le risultazioni assolutamente ma ve l'ho detto la prima volta la prima volta che passate di qua soppressa bottiglia di vino per voi bravo hai detto se ci mette anche l'ozola io adesso parto no però scusate un attimo prima di partire con la boccia di vino io volevo fare un attimo io volevo scommettere le domande è arrivato questo ah si ok si giusto hai ragione una domanda sui geopolimeri ok noi abbiamo letto anche queste robe qua e altre pubblicazioni che parlano di teorie studi importanti questo qua è bellissimo questo libro secondo me questo qua è un libro eccezionale ma ripeto noi ci siamo concentrati su quello che dice l'egittologia ciò non toglie che questo signor Davidoviz in tutto il panorama che noi abbiamo studiato a mio parere a mio parere è forse la cosa più possibile che io abbia letto sulla se la costruzione fosse stata realmente effettuata dai faraoni forse forse questa soluzione la soluzione dei geopolimeri è forse quella che torna meglio ha un lo spiega molto bene spiega anche perché non ci sono state più strutture così grandi nelle dinastie successive spiega perché si fa la campagna i faraoni facevano le campagne nel Sinai eccetera eccetera è molto molto fatto è fatto molto molto bene molto interessante ma ha una pecca anche il signor Davidoviz non spiega come abbiano fatto a risolvere la problematica del granito perché il geopolimero riguarda il calcare rimane aperto il discorso dei blocchi da 70 tonnellate da quindi da meno fino a 70 tonnellate che con i geopolimeri non si possono fare da quello che ho capito e come soprattutto li abbiano portati così in alto quindi secondo me la mia la mia visione ci va molto molto vicino è molto molto plausibile come cosa mi è piaciuto tantissimo è veramente un argomento molto interessante ma ha questa pecca qua quindi è una risposta un po' a quelli che dicono avete sentito parlare dei geopolimeri certo noi di cose ne abbiamo studiate però ribadisco ci siamo concentrati su quello che ci dice l'egitologia ufficiale questo signore quando è andato ai convegni è stato preso a calci giusto per intenderci ok eh ok quindi forse ha ragione di solito funziona bravo esatto 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 allora ragazzi io direi veramente la chiudiamo qui io vi ringrazio tantissimo però una cosa il libro la barchetta la faccio e la faccio è questo dopo ne faccio una anch'io anche perché anche perché scusatemi io in realtà sono d'accordo con questi ragazzi che un pagamento lo avrò cioè la prima volta che ci vediamo ho voglia di avere le loro firme su questo libro perché è l'unica cosa che mi interessa dopo averli incontrati due o tre volte io volevo dirvi intanto ringraziarvi dirvi che il libro si compra sul sito di un editore giusto oppure vabbè anche da altre parti io devo farlo vi consiglio comunque la lettura così almeno anche questa è fatta e il bonifico ha una motivazione e poi dirvi che invece secondo me uno dei commenti che è arrivato spiegava veramente tutta la logica della costruzione delle piramidi è stato bravissimo con due sole parole e queste parole sono tutta un camion che secondo me è bellissima questo è un genio ci vado in patenza io con questo quindi ragazzi no devi fare allora io invece volevo dire alle 200 sì sì alle 200 mila persone perché adesso arriveremo almeno sfonderemo alle 200 mila con questo video alle 200 mila persone che guarderanno questo video io le invito tra gli altri a guardare i tre video video sì sì che ha fatto Alberto su Ustica ti ringrazio Paolini Paolini e Paolini assolutamente non si tocca e mi spiace ma assolutamente leggermente sotto in seconda posizione abbiamo il signor Bonato fidatevi bravo io vi ringrazio io vi ringrazio dicevo che il gioco che il vantaggio che ho avuto io rispetto a Paolini è che lui l'ha fatto vent'anni fa il video per cui gli ultimi vent'anni di storia lui poverino non li poteva conoscere e io invece ho avuto la fortuna di poter vedere anche quello che stava ma fatti grazie tu hai ti ho fatto un complimento e tutta la roba stai zitto non sono capace non sono capace mi diverto mi diverto e anche lì ragazzi ci sarebbe da fare una trasmissione perché anche lì sono arrivate di quelle critiche pazzesche che secondo me non sono neanche tanto giustificate ma anche voi ricevete tutte queste robe perché spero di sì sì di solito io Luca le passiamo ad Antonio ho risposto sempre a tutti eh io ci sto provando ma ci sono più di mille commenti non ce la faccio a rispondere a tutti a qualcuno a qualcuno ho risposto naturalmente almeno a quelli che non insultano la mia mamma perché a quelli che insultano la mamma li ho bannati proprio due o tre cioè si arriva finché mi danno del pagliaccio mi sta bene ok ragazzi io vi ringrazio veramente tanto di aver partecipato a questa cosa il mio micro canale mi avete fatto si vede sono molto emozionato di questa cosa e niente a presto se passate da queste parti fatemelo sapere che bisogna autografare il libro non la soppressa è la soppressa quello su ragazzi lo vado a prendere a Valli del Pasubio che c'è una soppressa meravigliosa ciao ragazzi grazie mille ciao Alberto ciao ciao ciao